gtt sarà presente a terra madre salone del gusto 2024 l'evento internazionale dedicato al cibo anello di congiunzione perfetto fra natura e cultura in programma a torino dal 26 al 30 settembre presso il parco d'ora luogo simbolo della rigenerazione urbana come green partner della manifestazione in linea con il tema proposto nell'edizione 2024 essere natura gtt si impegna a promuovere un modello di mobilità sostenibile con un'offerta di trasporto pubblico potenziata e a contribuire così alla riduzione dell'impatto ambientale dell'evento per agevolare gli spostamenti di tutti i partecipanti le linee che servono il parco d'ora avranno corse aggiuntive rispetto al consueto soprattutto nelle fasce orarie di maggior afflusso di visitatori per garantire un servizio efficiente e frequente sarà inoltre presente un infopoint presso l'area dell'evento per fornire informazioni sui percorsi gli orari e per distribuire i biglietti per il trasporto pubblico lo stand sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30 mappa terra madre 2024 linee potenziate per raggiungere l'area del parco d'ora per agevolare gli spostamenti verso l'area del parco d'ora le linee 39 72 e 72 saranno potenziate la linea 3 collega direttamente le zone nord ovest e est della città mentre la linea 9 offre un collegamento diretto tra la zona nord e sud est confermata alla stazione porta nuova entrambe le linee saranno potenziate nei servizi serali con passaggi più frequenti in particolare la linea 9 la domenica effettuerà un servizio ogni 10 minuti tra le 14.30 e le 20.00 sempre domenica sarà potenziata anche la linea 72 tra le 8.30 e le 20.00 il servizio serale della metropolitana sarà esteso da giovedì a domenica sarà disponibile fino all'1.30 con ultima partenza dai capolinea fermi e bengasi all'1.00 per chi arriva in treno per collegamenti diretti dalle stazioni ferroviarie di porta nuova e porta susa con il parco d'ora le linee da utilizzare sono 9 52 feriale nei giorni festivi viene sostituita dalla linea 67 60 72 e 72 feriale per chi arriva in auto e disponibile un'ampia zona di sosta per le auto presso l'alliance stadium settori b5 e b7 da cui è possibile proseguire raggiungere facilmente il parco d'ora con le linee 72 e 72 feriale le fermate consigliate presso le quali sarà presente personale gtt per fornire informazioni e assistenza con vendita biglietti sono la n 2444 druento la n 2442 stadio e la n 2621 grosseto informazioni sul trasporto pubblico per una pianificazione ottimale del viaggio gtt mette a disposizione un'ampia gamma di servizi di infomobilità per consultare orari percorsi e ricevere aggiornamenti in tempo reale calcolo percorso arrivi in fermata telegram movit google mato live bus e tutte le informazioni accessibili attraverso il qr code presente sulle paline delle fermate dei mezzi terra madre salone del gusto è un evento di slow food città di torino regione piemonte